Ciao a tutti amici e bentornati nel mio canale! Oggi vi propongo la classica treccia francese in versione 3D. Dopo aver raccolto tutti i capelli in una coda, questa la dividiamo in tre ciocche. La prima laterale la dividiamo in due sezioni e le facciamo passare in mezzo la seconda e la riuniamo al centro. Poi dividiamo in due sezioni anche la terza, le facciamo passare in mezzo la prima e la riuniamo al centro. Ripetiamo questi passaggi per tutta la lunghezza dei capelli. Blocchiamo la treccia con un elastico e allarghiamo le varie sezioni. Il risultato è una traccia tridimensionale, infatti da qualsiasi angolazione la osserveremo, vedremo sempre la stessa forma. Grazie per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate e se volete nel mio blog troverete l'articolo dedicato con maggiori informazioni. Inoltre vi ricordo che mi potete seguire anche su Facebook, Instagram e Twitter. E al prossimo video, ciao! 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 Grazie a tutti.